Ciao, allora questa sicuramente non è la faccia migliore per presentarvi la mia routine serale, però io la mia routine, però siccome sono così da stamattina, lo faccio adesso non lo faccio più. Quindi vado veloce perché ho 15 minuti. Dunque, routine serale della Anna Rosa. Allora, la sera prima, quando torno a casa, mi strucco con dell'olio di cocco, che adesso è, e lo massaggio sulle ciglia con l'acqua calda e lo tolgo via utilizzando queste spugnette, massaggio, 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 queste spugnette, oppure questi cotton pad, vediamo se la luce va bene, ma insomma, questi cotton pad e tolgo via. Dopodiché passo un goccino di acqua micellare per togliere il grosso del trucco sul viso e sul collo sempre, perché mettendo sempre la protezione solare, la protezione solare è la cosa più ostica da togliere, quindi detergere il viso prima con la Bioderma Sensibio o qualsiasi altra, e poi passo al Clarisonic utilizzando questo. Questo è un prodotto di un brand coreano, ma è un gel, un vitalizer white soap. Ecco, il brand è questo, perché uso questo brand è perché ci sono altre cose che uso al mattino di questo brand. Comunque un gel pulisco col Clarisonic. Tolgo sempre l'eccesso di tutta la schiuma, non mi accontento di sciacquare il viso dopo il Clarisonic, ma detergo con un panno a microfibra, oppure uso sempre queste spugnette, e tonifico dopo questo con Origins, vabbè, questo è un tonico al tè bianco, Origins, buonissimo, va bene. Passo un leggero contorno occhi, e questo è dell'Avalon, sempre con Avalon Organics, e lo trovo ottimo con Revitalizing Eye Cream Photo Aging Defense per il contorno occhi. Questo contorno occhi, vi ricordate che faccio anche il massaggio utilizzando questo, questo sistema qua, vabbè. Fatto questo, io faccio sempre una maschera, qualsiasi maschera sia il tessuto, non il tessuto, oppure faccio, una volta a settimana sta finendo, il peeling di Canebo agli enzimi. È una polvere sottilissima, purtroppo sta finendo, e niente, ma sono tre anni, quattro anni, cioè l'investimento vale. Allora faccio una maschera, ho un peeling, eccetera, eccetera, e tolgo. Ho pure una maschera anche idratante, sempre Organics. Questa è una di quelle maschere che si possono lasciare anche la notte sul viso, ma io non lo faccio questo, perché faccio un'altra cosa. Dopo che faccio la maschera, lascio comunque sempre asciugare il viso, deve passare almeno mezz'ora, un'ora da, se non faccio la maschera basta mezz'ora, se faccio la maschera un'oretta, io la preferisco, insomma, finché la pelle è bella asciutta, e passo a serie alterne, il tretinoin. Il tretinoin, la retinè, la famosa retinè a 0,05%, ce ne sono, c'è Airol, ce ne sono altre, adesso io ho l'Airol, però c'è anche la stiva, sempre 0,05%. A proposito, la detersione, ah no, questa è al mattino, ok. Quindi, passo il tretinoin, il retinè, che sarebbe la vitamina A, a serie alterne, e l'alterno con l'acido glicolico. Vi ho fatto vedere, che è della Alfa Hydrox, l'acido glicolico AHA, prima usavo un barattoletto in crema, adesso uso questo in gel, come suggerito da Paula Choice, e mi sto trovando benissimo. Ovviamente, viso, collo, evito, ma proprio vado vicina qui sul contorno occhi, ma cerco di non andarci. Se sono brava, e aspetto ancora del tempo prima di andare a dormire, la bottiglietta ho nella sua motra vasato, olio di rosa moscheta, ma dopo un'oretta, sia per il tretinoin che per l'acido glicolico. Olio di rosa moscheta, travasata in un'altra bottiglietta, l'ho dimezzata, quindi qui, sul contorno occhi, di nuovo. Oppure, su tutto il viso, questa meraviglia di olio, che è un miscuglio di diversi, una miscela di diversi oli. Provo a mettervelo qui. Non ho qui neanche gli occhiali, per potervi dire. Ce li ho qui gli occhiali? Ah, sì. Ecco, è l'organizzazione. L'organizzazione. Allora, è un miscuglio di Organic Camellia, Rosehip e Vitamin E. Ok, Vitamina E, Rosa Moscheta e Camellia. Questo. Il brand si chiama Stem. Ed è, credo, Made in USA. Sì, costicchia, ma, insomma, qui c'è il coso, vabbè, quelle cose che vi interessano. Quindi, prima di andare a dormire, questo, io ascolto un po' la pelle. Se dopo il tretinoin, dopo la vitamina o l'alfa-hidroxiazid, quindi l'acido glicolico, sento che la pelle mi tira, appunto, aggiungo sempre l'olio. Come faccio per l'olio? Due goccine, due goccine, uno e due, sulla punta delle dita. Stroffino forte, 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 con il calore annuso e comincio a stenderlo. L'olio va massaggiato delicatamente, non dobbiamo fare tutti sti cosi, perché con due goccine d'olio, che chiave lo volete fare? Insomma, basta questo, annusarlo, è così. E questo è quanto? Quanto sono arrivata? Ah, ce l'ho fatta, potevo fare anche quella di giorno. Ma comunque, a me ha salvato la pelle. Ha salvato la pelle perché io dopo l'incidente, dove sono caduta così, quindi mi sono sfasciata tutta, ero tumefata, sono stata gonfia, ho avuto i segni qui e qui, tagli, tagli, mi hanno cucito, mi hanno cucito all'interno della corra, ma lì non c'entra niente. Insomma, ero tumefata. Morale. Queste combinazioni mi hanno salvato la faccia, mi hanno, io ho avuto l'acne da ragazza e ho tuttora acne cistica, qui, si vedono degli altri, e ancora ho cicatrici d'acne, ok? Ho ancora qualche macchiolina, questo è un neo, ancora qualche macchiolina, ma considerate che io non ho nulla sul viso perché oggi sono andata al lavoro, come mamma mi ha fatto. Cioè, ho solo l'idratazione. Dunque, questa routine a me ha salvato la pelle. Se io guardo dei video passati, non mi riconosco. Ovviamente, le maschere, io le faccio, ragazze, tutte le sere. Cioè, io ho quasi tutte le sere, ho una fissazione delle maschere. Ah, a proposito, il detergente, oltre a utilizzare la sera, questo gel, sempre su Clarisonic, uso questo dell'Oley, che è più cromoso, però è un gel un gel che fa foam cleanser, regenerating foam cleanser. È un pochino più forte, ma ascoltando la mia pelle, come capisco già di me se devo prendere questo che è più mild o questo. Una volta o due volte a settimana, ma questo da tempo, da quando sono arrivata in Cina, faccio questi lavaggi con l'olio, adesso sono diventati di moda, ne parlava Erika l'altro giorno, e i miei olietti che mischio, non uso l'olio di ricino, ma io uso vari tipi di oli, tra l'avocado, jojoba, avocado, jojoba, mandorle dolci, è un altro miscuglio cinese, c'è un negozio che mi fa miscugli di oli, ne metto abbastanza nella mano, massaggio, 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 e dopo panno, bagnato, che scaldo, forno a microonde, pulisco il viso, ma questa è una pulizia che faccio una volta a settimana, più che, sì, una o due volte a settimana, ma sempre ascoltando la pelle, d'inverno magari più frequentemente, proprio perché, per via del freddo, una cosa che salva molto, stare qui a Shanghai, è il fatto dell'umidità, Shanghai è molto umida, e l'umidità fa molto bene alla pelle, ecco perché, le local shangainese, hanno una pelle sempre bella, questo è quello che uso, non uso creme, perché al di là delle creme, cioè le creme dei vari branding, no? Poi la mattina ho un'altra cosa, gli oli sono una mano santa, niente, ho usato contorni occhi, anche contorni occhi della Jurlique, all'arnica, arnica che consumo e uso, che ho usato molto per i gonfiori, e che uso, ecco di questo periodo la sto prendendo, perché quando comincia un po' la bella stagione, tendo a gonfiare, le maschere già le conoscete, però quest'altra maschera, che è una scatola, gold, EGF, eye, and spot patch, dunque questa è la bellezza di, questa confezione, è così, si apre, e vedete queste gelatine, ci sono due mezze lune, è una cosa rotonda, ecco, questi patch sono gelatinosi, e più c'è un liquido, io metto questi patch qui, le due mezze lune, e quello tondo, lo metto qua, dove ci sono le, i levern qui, e questa è una maschera, niente, stupenda, però queste, questa è coreana, oddio quanto c'ho, sì, ancora ce l'ho, mi sembra la corsa contro il tempo, oddio, però stasera c'avevo voglia di fare, ce l'ho fatta, almeno la routine, sarà lei, wow, vabbè, grazie, e spero che vada bene, perché non lo rifaccio, e poi faccio quella, farò quella di giorno, baci, buona vita,